Salve, mi chiamo Sara. Voglio ringraziare la Fondazione Baroni perché mi ha dato la possibilità di frequentare un corso di sala professionale. Grazie mille! Ringrazio la Fondazione Baroni che mi ha permesso di giocare a questo splendido sport insieme a tutti i miei amici. Ringrazio la Fondazione Baroni per aver portato il sitting volley nelle scuole elementari e medie di Piano Romano. Grazie perché il suo contributo mi ha permesso di avere a disposizione una carrozzina adatta per il gioco del tennis. Sport che ho imparato ad amare e che mi aiutano nell'attività fisica e la socializzazione della vita quotidiana. Grazie, sono molto contento di aver potuto suonare in una band. Grazie, grazie. Ho partecipato, bandaruti di beni. Grazie che abbiamo suonato in una band. Grazie perché con la Fondazione Baroni posso fare il sito e il genere ai miei amici e mi diventa molto affare tanti giochi. Poi paghiamo, cantiamo e colliamo. Grazie a la Fondazione Baroni che abbiamo utilizzato e molto affannato. Dica la parola, è stato bellissimo. Grazie. Grazie alla Fondazione Baroni perché mi permette di vivere esperienze di vita e di crescita che vanno oltre la distrofia di Duce. Grazie a Fondazione Baroni perché mi ha permesso di spidare le onde anche con l'atrofia muscolare spinale. Ringrazio la Fondazione Giovanni Battista Baroni per avermi dato attraverso il suo contributo la possibilità di partecipare ad un progetto di riabilitazione garantendomi una vita regolare nello svolgimento delle grandi e piccole azioni quotidiane. Grazie alla Fondazione Baroni perché il suo contributo mi ha consentito di partecipare ad un progetto di riabilitazione attraverso il quale ho recuperato la forza muscolare necessaria allo svolgimento delle attività quotidiane ed un conseguente stimolo ad affrontare con grinta gli ostacoli che prima sembravano insormontabili. Grazie alla Fondazione Baroni perché è al nostro fianco per migliorare la qualità di vita nelle persone colpite da disfagia, una complicanza grave e frequente dell'ictus per la quale purtroppo ad oggi non ci sono trattamenti specifici. Ci ha permesso di dedicarci allo studio della malattia di Parkinson giovanile. Con il finanziamento ottenuto abbiamo creato un gruppo di giovani medici, giovani ricercatori che si sta occupando di studiare e capire meglio quelle che sono i meccanismi e le cause di questa malattia del perché arrivi così presto nella vita. Ciao a tutti, sono Edoardo Giordan, faccio parte della Nazionale Paralimpica di Scherma e sono qui per testimoniare quanto lo sport sia importante per tutte le persone, soprattutto i disabili non solo dal punto di vista fisico ma soprattutto emotivo. Tramite questa esperienza come testimonial della Fondazione Baroni ho l'opportunità di conoscere tante persone e ad aiutare chi è più in difficoltà di me quindi spero vivamente di durare il più a lungo possibile e di fare tanti progetti insieme. Ciao a tutti! Grazie Fondazione Baroni per l'esperienza della Nazionale Pari Grazie Fondazione Baroni per l'esperienza della Nazionale Pari Grazie a tutti! Grazie.